Marco Gagliazzo campione olimpico ad Atene 2004 argento a Pechino 2008 e hai concluso un 2009 con la vittoria in Coppa del Mondo diciamo che quando hai fatto l'exploat ad Atene tutti dicevano è un giovane emergente ormai non sei più un giovane emergente beh no ho già fatto due olimpiadi spero di fare anche la prossima cioè ce la metterò tutta per andare a farla beh è un giovane emergente diciamo che già prima non è che facevo schifo tiravo bene e ad Atene è andato tutto come doveva andare dopo l'emozione di Atene però sei andato vicinissimo a un altro oro a Pechino ci pensi ogni tanto a quell'argento che poteva essere oro oppure l'hai archiviato e si guarda avanti beh l'oro è sempre meglio dell'argento è andato bene comunque anche l'argento comunque è sempre una medaglia olimpica anche se molti si ricordano molto più dell'oro che dell'argento diciamo che comunque te ormai sei un atleta abituato a certi ambienti quanto cambia tirare in un'olimpiade rispetto a un campionato europeo o a un campionato mondiale? beh nell'arceria diciamo che l'olimpiade per quanto riguarda nell'ambito arceristico è più o meno come un mondiale anzi forse meno perché ci sono meno atleti ormai ci conosciamo tutti sappiamo chi c'è e che cosa può fare se uno poi comincia a pensare che viene ogni 4 anni che bisogna far bene in quelle poche frecce allora vengono tutte le crisi di questo mondo bisogna pensarla come una gara viverla bene come una nuova esperienza e cercare di dare sempre il massimo quindi senza farsi sopraffare dalle emozioni in pratica che è un po' la vostra specialità degli arcieri qual è la caratteristica fondamentale per diventare un buon arciere tenersi da parte quelle che sono i pensieri della giornata? sì beh riuscire a dosare le emozioni diciamo a pensare allo stato necessario e solo ad alcune cose particolari in particolare quindi concentrarsi sul gesto tecnico? sì sì solo su quello solo quello fa il punteggio e l'avversario quanto conta? cioè pensare all'avversario può essere un autogol? ma c'è chi dipende sempre dall'arciere c'è chi riesce a dare il massimo quando controlla l'avversario e c'è chi riesce a dare il massimo quando pensa solo a se stesso dipende dall'arciere te come ti comporti quando ti trovi durante gli scontri diretti? beh io faccio un po' e un po' quando vedo che vado bene controllo l'avversario quando voglio concentrarmi su me stesso penso solo a me senti Marco tu sei anche cresciuto come uomo sei entrato in aeronautica che ti ha dato la possibilità di diventare praticamente un atleta a tempo pieno durante le Olimpiadi di Atene che eri giovane uscì fuori questa intervista dove dicevi che cercavi la fidanzata e ti hanno assillato i giornalisti per tanto tempo com'è la situazione adesso? ci sono degli aggiornamenti? beh diciamo che io non l'avevo mai detto sono loro che me l'hanno chiesto gli ho detto che non ce l'avevo allora poi tutti ogni volta che mi chiedevano se avevo la fidanzata o meno era diventato un po' un tormentone sì ogni volta sempre quello alla fine sembrava che mi intervistasse solo per quello è una cosa che ti dava fastidio oppure hai capito che fa parte del circo dei media? beh beh alla fine ho capito che quello che interessa è più lo scoop diciamo tra virgolette che non la vita quotidiana di un arciere è quello lì che fa l'audience diciamo la tua vita quotidiana una giornata tipo di Marco Gagliazzo come si svolge? ma dipende se sono a casa o se sono a raduno a raduno ci svegliamo presto facciamo gli esercizi di scaldamento facciamo colazione tiriamo sulle 6 ore al giorno e in più facciamo anche attività fisica a casa cerco di fare quello che faccio a raduno però è più difficile perché essendo da solo la voglia passa però cerco di darmi da fare si dice negli ambienti della nazionale che tu sei un appassionato di computer e che sei anche bravo con playstation o console varie è vero? è una diceria? e se è vero con quali giochi sei particolarmente forte? ma diciamo che cerco di trovare il modo migliore per passare il tempo il computer mi piace riesco usarlo abbastanza bene dipende da cosa poi per giocare preferisco trovare giochi che riesco a fare in compagnia non da solo e se fate le sfide quando siete in ritiro in nazionale che tipo di sfide fate? ma un po' di tutto non c'è un gioco in particolare io so che tu sei un grande appassionato di automobili hai ancora questa passione ricordo che mi hai detto che quando hai incontrato Schumacher era stato un po' il tuo sogno poter parlare con lui coltivi ancora la passione delle automobili segui la Formula 1? sì sì certo quella rimane sempre la mia prima passione prima del dopo il tiro con l'arco diciamo seguo ancora la Formula 1 però purtroppo la Ferrari in questo momento sta arrancando speriamo che faccia meglio l'anno prossimo ma segui anche i cambiamenti del regolamento secondo te che Ferrari sarà il prossimo anno? ma comunque la Ferrari all'inizio di ogni nuova vettura non è mai andata subito al massimo ci sono volute degli anni infatti la penultima macchina che hanno fatto andava perfettamente dopo era imbattibile dopo cinque mondiali poi l'anno prossimo che avranno sviluppato meglio la macchina andrà meglio e per quanto riguarda invece il motociclismo tu sei uno dei più grandi campioni che ci sono nel tiro con l'arco in Italia abbiamo un super campione come Valentino Rossi come lo consideri? è un ragazzo molto diverso da te tu sei molto più riservato lui invece è uno che come si dice buca lo schermo perché gli piace stare davanti ai riflettori che come lo vedi come sportivo e anche come persona come personalità beh come personalità è fatta per la tv diciamo come atleta lo ritengo molto molto bravo perché vincere nove mondiali non è facile però diciamo che io negli sport di moto di auto seguo più il veicolo che non il pilota è molto bravo Valentino Rossi quello non c'è dubbio senti per quanto riguarda invece la tua attività da atleta che 2010 ti aspetti da un punto di vista agonistico ma cercheremo di dare sempre il massimo e di far bene ogni gara che ci sarà un po' meno di quest'anno perché così cercheremo di farne poche ma buone tu avevi detto l'anno scorso che uno dei tuoi obiettivi era vincere la coppa del mondo perché ti mancava ancora nella bacheca ora che l'hai vinta qual è l'obiettivo al quale tieni di più in attesa chiaramente poi di Londra 2012 ma ci saranno ancora i mondiali fita e mondiali indoor mondiali andremo bene perché sono a Torino quindi non c'è problema del fusolario o altro giochiamo in casa quindi potrebbe andar bene giocare un mondiale in casa a Torino 2011 pensi che il gruppo comunque voi come gruppo azzurro potrete sentire l'attenzione oppure cercherete di far valere il fatto che avete il tifo di casa che vi spinge beh si può sia pensare come il fatto che bisogna far bene perché siamo giochiamo in casa oppure pensarla anche siamo a casa è come allenarsi a casa e quindi è tutto più tranquillo tu che aspettative hai soprattutto guardando la qualità delle altre nazionali che sembrano essere sempre più livellate verso l'alto è sempre più difficile vincere una finale mi dicevi sì beh le altre nazioni sono molto forti stanno crescendo però noi non stiamo qua a guardare stiamo crescendo anche noi la sfida più eccitante resta quella contro la Corea per l'Italia? ma adesso c'è la Corea l'India l'Inghilterra ci sono tante nazioni forti basta appunto un punto per vincere o per perdere ma che cosa hanno i coreani di così speciale che si dice in giro per il mondo? ma probabilmente la cultura dello sport è che hanno loro il tiro con l'arco è molto psicologico tutti i paesi orientali fanno arti marziali non fanno pallacanestro a scuola come facciamo noi o calcio quindi diciamo rispecchia più la vita loro il tiro con l'arco che non quella europea la nostra è il calcio a proposito di calcio tu non sei un appassionato di calcio non sei nemmeno tifoso in realtà di una squadra in particolare almeno che io sappia cosa diresti a un ragazzo che inizia con l'attività sportiva dice perché scegliere il tiro con l'arco piuttosto che il calcio? ma vabbè io dico sempre che bisogna provare un po' di tutto provare il tiro con l'arco perché si sta in compagnia ci si diverte è comunque una sfida ogni freccia che si tira che sia contro l'avversario o contro contro se stessi a chi piace questo tipo di emozioni conviene provare grazie grazie